Nel giorno, essere capito a trattare tessi soft è quello che può fare una differenza tra te e la famiglia di persone che praticano il Sarge. È sicuramente un aspetto complesso in Oral Sarge, potrebbe essere il più complesso. Trattare i tessi full recovery, trattandole corretamente, sicuramente prende una curva molto lunga. Tre aspetti tecnici prima di iniziare a lavorare in modo giusto. Prima, la piazza deve essere cambiata a ogni passo. Deve sempre essere molto caro, deve capire perfettamente, evitare il rippo nel tessio e ci permette di portare le corti o le tessi full. Inoltre, quando si tocciona una tutta o l'interligno del buon, la piazza immediatamente perdita il suo scopo. Quindi, per un sarge come l'altro che stai guardando, bisogna di 6 a 10 piazza. Secondo, i tweezers devono essere sargici e non anatomici. Non le tessere due stile sargici sargici, ma sargici sargici, come le tessere che vedete qui, con più dimenti, con le tessere che in le altre tessere. In questa forma, i tweezers possono gestire il flab stile senza più pressione, distribuendo il stress su varie parti del flab. In questa forma, non damaggiamo il flab con uno o due tessere, ma avremo tessere che creano effettivamente il tessere. Se usavamo gli tessere anatomici, avremmo un tessere. Inoltre, non potremmo mantenere il tessere ancora in posizione, dovremmo sbagliare necessariamente, causando un trauma di compressione. Terzo e ultimo punto. Oral surgery operazioni sono ofteni considerate microsurgery operazioni, e come si sono portati con l'olio dell'enlargimento. L'operazione che stiamo guardando è stata portata con un microscopio surgical, principalmente per documentare il caso con un video. Usare un microscopio non necessariamente necessario, ovvero l'enlargimento sono essenziale. Per esempio, i 3.5 binocular magnifying glasses sono perfetti. Sono le quali ho usato per fare questo tipo di surgery. Ovviamente, senza l'enlargimento, potremmo pensare di strutturare un tessere con un tessere con un 7-0 suture, o anche proprio e completamente disperimentare. Un'importante cosa nell'enlargimento è non solo mangiare un'immagine, ma avere una luce coaxiali, quindi l'enlargimento non necessariamente necessario avere lenti per mangiare, ma anche un'immagine effettiva, che deve essere coaxiali per la tua linea, per la tua partecipazione, per la tua partecipazione sempre perfettamente ben lightened. Anche se ti prometto tre segreti, voglio dare uno di più. Surgery è come golf o boxing. Se non praticisci, vuoi migliorare e vuoi diventare un buon surgeon. Quindi voglio adresare particolarmente ai miei colleghi, dicendo che praticisci molta surgery. Faccio molto per diventare buoni e per poter offrire ai vostri pazienti una qualità operativa. Vi vediamo in breve.